Salvatore Rossini domani arriva l'ultimo match decisivo con il Belgio ora siete in attesa della partita di questa sera però l'ultimo impegno sì, il Belgio sicuramente forse è l'avversario più ostico sulla carta e già con la vittoria di ieri con la Bielorussia si è rivelata tale dobbiamo stare attenti però sicuramente il fatto che noi conosciamo un po' loro secondo me ci aiuterà perché questi erano giocatori nuovi rispetto a quelli che conosciamo quindi il Belgio sono giocatori che comunque militano il nostro campionato la prepareremo con più calma rispetto a ieri già da stasera quindi sono ottimista